Carissimi amici, dieci anni fa di questi tempi scompariva Nino Manfredi, un attore grandissimo italiano che ha fatto tantissimi grandi film che ricordiamo con simpatia e allegria. Lo ricordiamo volentieri su Lindel Brigadier ma anche negli altri film degli anni 60 che erano molto belli e lo rivedremo sicuramente in qualche bella fiction, su YouTube potete rivedere alcuni film e vi consiglio di guardarli, ne vale veramente la pena. Per il resto guardateli e ricordiamoci sempre che ci ho insegnato a godere, diceva sempre la salute è un po' di scatate nuove, quello sarebbe più importante di tutto nella vita, ricordatelo sempre, e così, e allora vi saluto e vi abbraccio, Samuele, ciao ciao!